Nuovo anno scolastico a Esernia, nuove regole per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, telefonini spenti e tenuti negli zaini durante le ore di lezione e più educazione civica grazie alle nuove linee guida del ministero. Sono più di 8.000 gli studenti che tornano tra i banchi a Esernia in provincia. Alla San Giovanni Bosco di via Umbria è il momento del primo suono della campanella, tanta emozione tra i più piccoli che inizieranno una nuova avventura scolastica con una cerimonia d'accoglienza tra musica e un piccolo omaggio di benvenuto a scuola. Oggi inizia la tua carriera da studentessa, sei contenta? Sì, sì. In bocca al lupo? Sì. Sei emozionato? No. Come no? Non sei contento? No. Anche per te il primo giorno. È una nuova avventura questa qui, diventerai un po' più ometto no adesso? Sì. E questo bel bambino che ride come si chiama? Francesco. Francesco, sei contento di venire a scuola per la prima volta con tutti i tuoi amichetti? No. Sei emozionato? Sì. Ti piace l'idea di essere con tanti bambini in classe per un anno intero? No. Come no? Voglio stare solo a casa. Che emozioni si provano? Indescrivibili. C'è sicuramente tanta felicità ma anche un po' di paura perché questi bambini oggi diventano sempre un po' più del mondo e meno di mamma e papà. Questo primo anno per me è la prima esperienza a livello di libri di testo non è stato economicamente pesante perché per fortuna la fornitura è gratuita. Altro materiale chiaramente costa e grava sull'economia familiare però per i figli si fa questo e anche altro. Una scuola rinnovata grazie ai fondi PNRR e alle nuove direttive ministeriali. Allora per quanto concerne gli alunni della scuola secondaria di primo grado è fatto di vieto assoluto dell'utilizzo dello smartphone per cui va spento. Noi abbiamo regolamentato che va tenuto all'interno dello zaino. Ogni singolo alunno deve tenerlo all'interno dello zaino e lo può riaccendere solo fuori le pertinenze della scuola in modo tale da evitare che ci possano essere insomma delle interferenze da un punto di vista proprio prettamente disciplinare all'interno delle classi. Ci sono le nuove linee guida sull'educazione civica. Insomma diciamo che abbiamo un bel po' da lavorare ma soprattutto dobbiamo cercare di riportare così come il ministro più volte ripetuto di cercare di riportare i nostri alunni su quello che è il forte senso civico e costituzionale che da sempre contadistingue i cittadini italiani. Al primo giorno di scuola presente anche il sindaco Piero Castrataro per augurare buon lavoro ai piccoli studenti Sernini.